È la prima volta che viene a Sant'Orso, vero? Sì, primo anno e ho iniziato da poco, quindi era un po' una prova, ecco. È uno stile un po' particolare, un po' diverso dal solito, diciamo, e giustamente sia anche nei non tradizionali. Sì. Com'è andata? Ma è andata bene, ovviamente c'è chi apprezza di più e chi di meno. Ho subito un po' quello che piace a me, il mio gusto e infatti sono orgogliosa di come è uscita e spero di riuscire a mantenere appunto il mio stile anche poi in futuro. E oltre all'aspetto più della vendita, eccetera, come è andata la fiera? Siete divertiti? È stata una festa? Sì, è stato molto bello, infatti non avevo aspettative perché non essendo mai venuta dall'altra parte, non sapevo, però molto divertente, poi sei in una bellissima zona, quindi piacevole, proprio delle giornate piacevoli e niente, è stato bello.